Riconsegna del tratto della riviera Nord che va da Montesilvano a Pescara, riconsegna di una pista ciclabile rinnovata, di un marciapiede completamente rinnovato e fruibile, soprattutto nella stagione estiva appena aperta. C'è uno stop fino a settembre per gli ultimi ritocchi. Momento storico perché è una nuova riviera che prende forma, che darà vita a un nuovo modo di vivere questo tratto della riviera pescarese. L'abbiamo battezzata scherzosamente Riviera Young, una riviera che sicuramente spezza con la parte precedente, ma volutamente perché è un tratto di città che ha un'alta vocazione, dove ci sono meno abitazioni, dove c'è più vita notturna e sicuramente abbiamo voluto caratterizzarla anche per questo. Una riviera che al termine dei lavori, che riprenderanno come diceva giustamente a fine settembre, cioè a fine stagione balneare, avrà circa il 30% di posti auto in più. Una pista ciclabile molto particolare, direi bella, diversa dalle solite, con un andamento curvilineo che è atteso anche a ridurre la velocità dei ciclisti. E che in questo momento, anche in attesa della prosecuzione dei lavori, prosegue in via provvisoria fino a Montesilvano. Anche questo è un fatto storico perché mai fino ad ora Montesilvano e Pescara non sono state collegate, da qui circa 3 km di pista ciclabile in più rispetto a tutta la città di Pescara, questo significa che è possibile percorrere tutta la riviera in bicicletta. Anche la riviera Sud è in corso d'opera, rinnovamento anche lì, nuova pista ciclabile, perciò il collegamento è ancora più lungo? Il collegamento al termine sarà lunghissimo, praticamente potremmo dire di aver collegato tutta la riviera di Pescara con la pista ciclabile. Rimarrà escluso un unico pezzettino che paradossalmente è stato proprio il primo tratto di riviera ciclabile nella città di Pescara, cioè quello che va dalla Badonnina fino alla nave di Cacera, dove c'è una pista che per troppo non è a norma e che ha bisogno di interventi strutturali più importanti. Ma al di là di quel breve tratto che comunque è collegato, tutta la riviera pescaresse sarà ciclabile e questo è veramente un fatto storico. Grazie a tutti.